Allora Alessandro per me è un fratello, dico è appunto non voglio parlare al passato perché per me è sempre comunque qui con noi. Un ragazzo veramente speciale, un ragazzo che è riuscito negli anni a unire tutti noi. È nel ricordo di Alessandro Melani, giovane pistoiese ucciso da una malattia all'età di 35 anni che per il quarto anno consecutivo gli amici di sempre si sono riuniti al campo frascare di Pistoia per un torneo di calcio a scopo benefico. I circa 1000 euro raccolti con il triangolare di calcio e la successiva cena di beneficenza saranno infatti devoluti all'Associazione Italiana per la lotta a leucemie, linfomi e mielomi. Questo è il quarto anno che noi organizziamo il Memorial Alessandro Melani, è appunto in onore per ricordare uno dei nostri più cari amici, anzi diciamo l'amico che ci ha fatto conoscere un po' tutti quanti, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto quattro anni fa e vogliamo sia con il triangolare che con poi l'evento benefico in serata raccogliere i soldi e fondi che andranno poi a sostegno dell'AIL, quindi per la lotta ai linfomi, mielomi e leucemie. Le squadre in campo chi sono? Le squadre sono la Cimelo, che appunto è nata proprio in onore di Alessandro, lo Sperone Calcio e il Pistoia San Marco.